Benvenuti in un nuovo episodio di Minecraft, Midpoint Craft Dimension all'Ascension. Nello scorso episodio avevo dei progetti, li ho accantonati per il problema dei TPS, che ora abbiamo risolto, diciamo. E prima di continuare con questo, cioè Compact Machine, che in realtà non sarà Compact Machine, ma sarà la nuova struttura con i Berserker Steel, ho iniziato a fare altri di questi perché me li avevo dimenticati. Abbiamo un sacco di Chaos Shard, è passato un po' di tempo, e wow, quanti me ne faccio? Hmm, vediamo. Ah, potrei fare un Aresype migliore per il Machine Casing al posto di questa, questa? Mi richiederebbe solo il Fairy Rhegnum. I Fairy Rhegnum Bottle vengono già richiesti nel Dragonfire Crucible. Hmm, potrebbe essere una bella idea. Ah sì, ne sto ordinando 16 comunque. Ed ecco qui un bel cubo, non devo neanche decorarlo, è proprio in stile con la base praticamente. E qui iniziamo ad acconare un bel po' di Large Chaos Fragment. La velocità con cui le stiamo ottenendo direi che mi va benissimo, posso quindi rimettere l'Export qui. Perfetto. Così questo si riempirà un po' alla volta. Ehm, ok, questo è un problema. Si è impallato il Mixer. Non produciamo la Mysterious Comb abbastanza velocemente sul serio? Uh, no, non è che non la stiamo producendo abbastanza velocemente, non la stiamo proprio producendo. Cos? Ok. Mi sono messo due Spectral Queen che ci producono le Mysterious Comb. Già. Mi sono messo all'interno del Crafter la Resamp per il Terra Steel utilizzando il Terra Steel Crystal che abbiamo qui. Text C, quindi questo rimarrà per sempre e il pattern funziona. Ho anche fatto respawnare i due demoni che nello scorso episodio erano respawnati perché avevo messo in Peaceful. E ho collegato due storage bassa ai Drawer che ci servono. E abbiamo il collegamento mediante Quantum Link Chamber. E mi lascio un cartello eventualmente per il futuro. Qui questa area sarà sicuramente da cambiare perché questi macchinari della Techleborn non possono continuare a stare qui purtroppo. E ho aggiunto quattro Crafter che mi fanno delle scaglie di drago con i vari Aildunari che avevo preso. Quindi ognuno di questi ce ne ha uno. E qua ho messo dei Compacting Drawer con uno storage downgrade. In questo modo ci teniamo 500 nel sistema di tutte le varie Dragon Scale e anche uno stack di blocchi. Ma non è quello l'importante perché le scaglie di drago ci servono per convertire il Whispering Heart of Heart in Soul of the Dragon Slayer. Sono proprio questi quattro, che è l'unica cosa che ci manca per ordinare il Berserker Steel Ingot. Non so se voglio farlo in passiva, ne abbiamo 97.000 a disposizione, potrei anche. Sì dai. Ok, mi metto Whispering Heart qui. Inseriamo tutto all'interno di un altro Crafter. E lui inizierà a ottenere le varie scaglie. Whispering Heart ci darà Soul of the Dragon Slayer. Ce ne mettiamo da parte 2.000, perché no? Sì. E ora ne possiamo ordinare un centinaio. Il problema potrebbe essere il Terra Steel, perché comunque richiede blocchi di Mana Steel che non stiamo farmando. E a Spirit che non stiamo farmando e a Mystical White che non stiamo farmando. Comunque ce ne da 24. Però dai direi che per il momento facciamone 100. E ho notato che ci possono servire più di 5 Berserker Forge per l'Arcane Ashes, per il Binding Reagent. Da fare in passiva. Ok, il Berserker Steel ha finito. Mi ricordo che questa serviva per i due hint. Perché? Ah, per fare l'essence. Per fare le varie essence. Eh sì. Uh. Quindi ce ne serviranno tantissime, perché non è di questa un'Agent. Quindi minimo altre 4. Per la mental altar posso farlo, fra l'altro. Sì. Ok, ci serve un'Area dove fare tutte queste cose. In modo del tutto temporane mi sono messo una Smeltery qui. L'Area mi chiamo di Lava. Qui mi sono messo uno Smart Output e ci metto un po' di Berserker Steel. Dovrebbe venire qui e qui dovrebbe darci i secchielli. Ah, interessante. Se metto lo slot upgrade li cestina. Eh, ups. Beh, non è che ne abbia fatti tantissimi, cento... Forse perché ne ho cestinati alcuni. Ma se tipo mettessi... Sarvest Goddess Band qui. E lo attivo mi rompe tutti i fiori. Ok. Ma se pianto i Mystical White? Non è possibile. Crescono e li rompe, ma non li rompe perché devono essere rotti con le Shears. Che fregatura. E al 300 Berserker Steel sia. Vuol dire che ho un po' paura di automatizzare la botagna. Perché so che il portale degli Elfi può risultare laggoso. Però è obbligatorio se vogliamo automatizzare il Terra Steel. Perché i Gaia Spirit si fanno in questo modo con Elementium e Pixie. E l'unico modo è Elven Tade. Che fra l'altro richiede comunque cose infuse con la Mana Pool. Quindi cose droppate nel mondo. Abbiamo altri 100. Ma secondo me lo Smart Output ha un qualche problema e mi brucia i Berserker Steel. Perché questi non mi sembrano. 100 lingotti. No, ok, sì, questi sì. Quelli di prima no. Perché me li aveva bruciati. Ok, ha senso. Quindi ora potrei fare 4 Berserker Forge. E un altro 100? Sì, vai. E questa volta utilizzeremo un Fluid Transposer. Di cui mi fido un po' di più. Ok, è già finito. 5 Berserker Forge. Non sono 16, te li ho appena... Perché adesso sono diventati... No, devo riavviare. Ok, un riavvio del pack. Ah, si è semata la cosa. Ora ne vede 39. Possiamo quindi farci le 5. Berserker Forge. Sì, ok, vai. E qua otteniamo tutti i componenti. Avevo già messo la Recype per la struttura. Dovrebbe essere giusta. Ho intenzione di farlo qui. Non so se quest'area sarà talmente grande che vorrò fare altri chunk. In ogni caso li ho preparati, tra virgolette. E qui abbiamo tutto necessario. Non so se piazza i secchielli. Non ho idea. Proviamo. Ah, mi dice che mancano i Millie Bucket. Quindi non vede i secchielli, ok. Ma se invece li mettono all'interno di un Reservoir, li vedi? Sì che li vedi. Fantastico. Quelle per le anime le faremo una sopra l'altra. Ho già messo item interface vicino agli output e ho connesso tutti gli input con l'Exnet. L'interface sarà qui. Qui avremo lo storage bus con il Drawer collegato ai laser. Abbiamo i 5 Drawer. E con l'Exnet estrarremo a stack dal Refine MC Link e dalla interface. E inseriremo le varie cose all'interno degli input. Ognuno con il suo item. Una cosa che non capivo troppo bene e cioè cosa vuol dire dare le will alla struttura? Perché stai iniziando a ottenere cose? No, questa mi sfugge. Perché stai ottenendo cose strane? Non dovrebbe fare così? Ho sbagliato il laser? Deve essere collegato di lato? Quanto pare sì, ok, strano. Quindi questo si sta riempiendo e abbiamo anche... Ah, mi sa che l'interface è un po' un problema. Ok, si è sposto davanti allora. Quindi si è sposto l'interface davanti che non vede anche le time input. Così funzioni. Comunque qua inizia ad accumulare le will. Ma perché i laser non... Pensavo che funzionassero solo dove si attaccano. Invece sono un po' quello che gli pare. Ok, in ogni caso come si può vedere la velocità è stratosferica. E soprattutto non stiamo consumando will. Qua mi dice che per funzionare ha bisogno di 20 corrosive will. Però in questo chunk non ce n'è nessuna e guardate la velocità con cui li sta processando. Abbiamo già riempito il drawer. Dì boh, meglio così. Non dobbiamo preoccuparci di riempire di will il chunk. E ecco qua un bel piccioppi. Dopo aver portato l'app e iniziamo a esportare queste cose. Che dovremmo stare estraendo, giusto? Giusto? È già pieno, ok? Guardate la velocità, spettacolo. E queste cose me le aggiungo qui, qui e qui. In questo modo abbiamo ripreso la produzione di will crystal. Ottimo. Senza la struttura che fa Spoonary Mob. Quindi non ci serve la Compact Machine. E senza anche utilizzare il sistema delle will. Perché non serve, che era la cosa che mi preoccupava di più. Mi sono spostati i cavi della piede un pochino più sotto. Così possiamo far passare un trim. Qua ci ho messo dell'Induction Smelter. Che prenderanno tutti la configurazione di prendere il primo da sinistra in auto-input. Prendere quello viola da dietro e buttare fuori a destra. Dietro ci metteremo il connector dell'Exnet. Che inseriranno la Sed Nanite. Quindi gli diamo a Sed Nanite. Gli diamo anche energia mediante l'Exnet. E loro iniziano a funzionare. E ci producono i vari stili. Ottimo. Idealmente avremmo anche potuto utilizzare un'altra Recipe. E cioè quella all'interno dell'Arch Furnace. All'interno dei Mythic Processor. Che ce ne darebbe due più vari lingotti. Ma non credo ne valga la pena. Perché cioè già questa velocità è molto molto alta. Abbiamo già tutte le will piene. E la Sed Nanite la stiamo producendo passivamente a Google. Questa Sed Nanite abbiamo 59k. È perché ti sei fermato? Sì, è perché ti sei fermato. Wow. Quindi sì, direi che questa produzione è stata sistemata. Il che vuol dire che le cose qui dentro non ci servono più. No. Ok, qua c'è un po' un problema di logistica. È obbligatorio utilizzare i tiny. Quindi bisogna distribuire la Exnet tutto in giro. Perché alcuni ne richiedono 4 di input. Ah sì, ne ho fatte altri 6. Ok, facciamo i tiny. Ok, mi sono collegato tutti e quattro gli input da sotto e poi li diremo su. Ho collegato la prima a Berser Forge perché volevo vedere la... Il Bloodlamp Reagent ha bisogno di quattro input ma due sono gli stessi. Se io gli do uno stack di redstone, lui capisce che può utilizzarla e ne usa due da un singolo input. Oppure devo configurargli tutti e quattro. Vediamoci, prendiamo il canale 7 solo per testare questa cosa. E diciamo che devi inserire torce di redstone, lowstone, poi redstone, ok. E gli dico estrai dal complesso delle find MC link e gli do queste tre cose. Quindi ha tutto, sì. Funzioni? No. No. Mentre se ti do la redstone anche sull'altro input non funzioni. Allora, riproviamo con tre input perché non è torce di redstone ma è solo torch. Quindi tolgo questa. Ok, io la funzioni? Sì. Ok, quindi non ha bisogno di tutti e quattro gli... Oh wow, gli ha già fatto uno stack. Quindi non ha bisogno di tutti e quattro gli input. Hanno tutti dei duplicati? Tipo, questo ha le stringhe? Questo no. Che fregatura. Eh vabbè. Allora direi che in questo caso posso comunque tirarmi su cavi dell'exnet. E quando ce ne sembrano quattro collegherò utilizzando il connector. Mi faccio anche gli altri. Dovrebbero essere tutte cose che hanno MC, quasi, o che possiamo esportare dall'M System. Ho finito di mettere tutti i filtri e ho aggiunto una Berserker Steel Forge lì sopra perché per fare lo Swimming Reagent ci serve il Water Reagent che si fa sempre nella Berserker Forge. Direi quindi di farlo direttamente senza l'acqua perché è un casino e così dovrebbe andare. Abbiamo solo i due input per il Packet Ice e per lo Sugar. E se disattivo il filtro che avevo messo qui dovrebbe iniziare tutto funzionare. Quindi qua vediamo i vari Reagent. Ti prego funziona. Perché non stai funzionando. Potrebbe essere perché ha un sacco di inserimenti quindi è troppo lento. Potrei velocizzarti momentaneamente con la Torcerino. Ah no aspetta questo è quello che sta aspettando Reagent. È l'esempio più sbagliato possibile che potessi fare. E soprattutto non ho messo neanche l'estrazione dall'interface. Ok. Wide Reagent. Ora iniziamo a vederli. Sì. Ok ottimo. E se poi collego questo a lui dovremmo poter aggiungere i vari Drawer. Poi se mi collego il Drawer in cui ho messo il Water Reagent. E lo metto in estrazione qui. Metto il filtro per il Water Reagent. E iniziamo a ottenere anche lo Swimming Reagent ottimo. Che mi piacerebbe mettere qui vicino al Water dato che sono collegati. E... Mi manca solo uno. Arcane Ashes. Mi vuole White, Redstone, Gunpowder e Coal. Se non sbaglio è questo. Quindi ha Gunpowder, Coal, Redstone e White. Andrebbe ad essere giusto. Versa il Castile Forge. Non ti piace il White Die? Se ti metto il bon mill cosa succede? Funzioni? No. Ehm non capi... Gli input ce li hai? Qual è il tuo problema? Non hai abbastanza will. Sono serio? Ho solo un'unica aree sype che ne richiede 0? Se ci metto un Demon Crucible con delle will normali inizia a funzionare. E a te richiedi 0 will e non funzioni senza le anime nel chunk. Mentre tutti gli altri che le richiedono esplicitamente funzionano. Che cosa molto strana. Oh beh, posso mettere un Conduit e metto il Demon Crucible qui. Ti dico estrai e inserisci. Questo dovrebbe risolvere il problema? Io di sì. Spero. Vediamo. E ora ti metto qui e continua a funzionare. Sì, continua a funzionare però hai bisogno di upgrade perché il tuo stack di limite è 1. Questo credo sia un bug. Va bene. E in teoria abbiamo appena automatizzato tutto quello che può servirmi adesso e anche in futuro. Perché queste sono per il futuro, non credo di voler fare gli vari hint adesso. Questo mi serve comunque. Lo esportiamo qui. Quindi posso mettere la produzione di Living Mirmitite. E dopo aver configurato i vari filtri ecco qua la produzione di Living Mirmitite in passiva. Quando questo si sarà riempito si riempirà anche il Drawer. E ora stiamo producendo il Burning Mirmitite in passiva quindi ottimo così. E ok direi che il setup con le Berserker Forge è stato completato con successo in un singolo chunk. E con questo direi che Compaq Machine cioè il problema che spawnavano i mob nella base l'abbiamo sistemato. Continuare con le Quest. Quindi mi sto facendo una Singularity di Bluefire. We like wood. Sì, mi piace parecchio. Se fosse meno una cosa sarebbe meglio ma dettagli. E adesso ci chiede il Bolin speciale di Stormland. Posso farlo? Vediamo, servono due cristalli Buttes e Fornax. Questo è Buttes mentre questo è Fornax. E poi manca il Mummy Bait per cui ci manca l'Animated Tar Beast. Allora i Tar Beast Heart ce li abbiamo. L'Animator pure è il Soulfall. Ce l'abbiamo, quindi così, così e così. In teoria serve il Life Crystal e dovrebbe iniziare a fare qualcosa. Sì, solo che è molto lento. Ok, ce l'abbiamo Animated. E con questo siamo a 4, ottimo. Li convertiamo in Mummy Bait. Trappando Armanis ho finito i Forbidden Fig. Quindi ho rifatto l'Alchemia Coldstone. L'ho riottenuto e ora lo sto farmando con un po' di Sup Spit. Posso quindi fare un altro Mummy Bait. Poi un altro ancora. E poi un altro ancora. E con 4 possiamo fare Bolin Stormland. Ok, qui ci dice, siamo onesti. Messa in confronto con le altre mod magiche, la Witchcraft non è una delle più potenti. No, la Bewitchment è proprio pessima, cioè non fa quasi nulla di utile. Ma ok, almeno rispetto alle altre. E quindi ha aggiunto un tratto al Bolin per farla diventare più utile. Perché non me la prende? Vuoi un Bolin normale? Sì, ok, strano. E in teoria questo Bolin ci serve per farci il Biom Marker. Vediamo, per caso se faccio right click converte il Bioma in Stormland. O no, ho fatto right click e ha preso il Bioma. Non era questo quello che volevo fare. No! Ah, ok, quindi bisogna fare il rituale con il Bolin settato su un determinato Bioma, ok. Per il rituale sono richieste queste cose. Noi abbiamo tutto. In teoria i sapping possono essere qualsiasi, così come i log. E poi c'è bisogno del Bolin speciale. Mi sono rifatto gli ingredienti per poterne fare un altro. Un Stormland. E poi si fa le click e inizio. No, il problema con il rituale è che voleva tre cerchi. Ok. Disegnando anche il cerchio più esterno viola. Ora dovrebbe funzionare. Sì, ok. Dovrebbe fare qualcosa prima o poi. Ok, gli item sono scomparsi tutti. Stormland, convertito un'area piuttosto grande in Stormland, ok. E in teoria adesso io ho un marker. C'è scritto che può causare Crash. Ok, ha MC. Quindi possiamo anche impararlo, non l'avevo ancora imparato. Ce ne servono quattro. Quindi uno, due, tre e quattro. E questi ce li abbiamo. Poi ci serve un cristallo di orologio mattunato. Che mettiamo qui. Quanto pare gli stag beetle si possono far spawnare. Ok, per fortuna abbiamo questa Lunium Farm che ci ha procurato un po' di Triscaliun Amulet. Posso quindi fare così e questo ce l'abbiamo. Anche se mi sembrava di averlo già ottenuto. Boh, non sono riuscito a trovarlo. Beh, ora ce l'abbiamo. Eccolo qua. E Ultimate Mob Farm. No, non droppa nulla. Che bello. Mob Imprisument Tool. E così funziona. Ok. Ho cambiato anche l'area site per le gemme. Comunque non vengono riconosciute. E ho altri crafting da nullare. Ora richiedono i cristalli perfetti che stiamo facendo nell'illuminate del genre. Quindi posso autocraftarle anche senza mettere i cristalli. Quindi abbiamo le Odium Gem. Per quanto riguarda i Coralium Cluster dovrei averceli da esplorazione. Di conseguenza dovremmo avere tutto no. Ok, mi mancano queste. E poi fanno il chunk. E ecco qua il Wildwood Core. E ce l'abbiamo. Ci mancano le cose da mettere attorno. Che sono le statue e i cuori blu. Possiamo quindi iniziare il crafting. E ora mi dice di mettere i cuori. Mi dice anche dove mettere le statuette. O devo indovinarlo? Mi sa che devo indovinarlo. Ok. Quindi metto le statuette su tutti i pedestali. E dovrebbe dirmi su quelle sbagliate. Cioè tipo questa. Questa. Ok, ho ottenuto. E questo è l'MC. Andando avanti ci chiede il Vibranium Servo. Che abbiamo già. Ok. Mythic Machine Case. Ed ecco qui il Mythic Machine Case. Questa è completata. Pixonia Artifact. Pixonia Infused Key. Il prossimo è il Mythic Excavator Engine. Che dobbiamo ancora fare. Ecco ci serve l'Universal Booster. Per cui ci serve il Salt Reactor. Ok. Quindi siamo arrivati qua. Però. Ora stiamo facendo gli ultimi lingot. Adesso quindi prendere questo. Anche se stiamo facendo direttamente i blocchi. Io. Girit. Sblocca una resaip migliore. La Chaos Shard è meglio. Decisamente meglio. Game of Midas. Branch of Life. Che non ho ancora capito a cosa serve. Serve per la. Serve per la Deep Knowledge. Perché? Fazle Solution. Un Rosidian Blend. Ma in che senso? Io l'ho già ottenuto il Rosidian Blend. Perché me lo dà qua? Boh. Bella domanda. Adamantium Stinger. Recursive Meatball. Gem of Gluttony. Icy Dreadful Shard. Poi qui ci dice che l'Enchanted Mil Meat Theater. Ci consente di ottenere questi altri due. In un modo molto più efficace. Cosa che stiamo facendo qui. E abbiamo anche. Impiti Drover. Quindi adesso stiamo iniziando ad accumulare l'Enchanted Mil Meat Theater. Ciao. Poi abbiamo Sentient Anomady. Poi il suo Quiz. Ok. Possiamo vedere che cosa ci darà alla fine. È utilizzabile per fare cosa? Per fare le War Rain Shard. Che servono per. Il Second Fractal. E. Un Super Enchant. Ok. Non troppo importante a quanto pare. Ma ci chiede tutte cose per fare i Mythic Miner. Alcuni posso già farli. Tipo i Draconium. Mi manca l'Awaken. E il Coil di Tier 2. E di Tier 3. Posso quindi ordinare anche quelli di Awakened Draconium? Sì. Vai. E ce li abbiamo. Abbiamo il Tier 3 Mythic Coil. Il Tier 2 Mythic Coil. E il Tier 1 Mythic Coil. Oh wow. Sono richiesti un sacco di Fusion Injector. In particolare. Per il Tier 3. Si impiegherà un pochino a farli tutti. Mi viene poi richiesto anche l'Arch Reactor Coil. Probabilmente per fare gli Arch Reactor. Ce li abbiamo già. Non c'è problema. E ci chiede anche. Il Creative Solar Array. Vuole una Singularity di Arch. Non so se posso. Allora Singularity di Arch è sicuro. Questi posso farli. Sembra tanta roba. Quanto li seguirebbe? Quanto prima? Poi mi sa che dovrò farlo lo stesso per qualcos'altro. Sì. Ne mettiamo pure le Recipe. Dopo aver messo un paio di Pattern. Ci mancano Fornaci. I Circuiti. Solo 70. Hawkwood. Ok. Energy Crystal. Ma vabbè. Energy Crystal hanno valore di MC. E fra l'altro anche i Better in Passiva. Quindi forse avrei dovuto spostarli. Piuttosto che utilizzare quelli con i MC. Per quanto riguarda il resto avrei anche tutto. Mi basta aumentare alcuni buffer. Come per esempio. Il Nether Sky Steel. E ci aggiungo un altro Drawer Upgrade. E anche quello per i circuiti. Anche se credo che lo cambierò sicuramente. Prima o poi. E poi i Lithium Cell e Arch Singularity. Per il resto abbiamo tutto. Ah. E ricordavo bene. Le Lithium Cell ce li abbiamo qui. In questo Drawer. Questo non viene visto dal sistema. Per quello non viene contato. Però ne abbiamo un bel po'. Già già. E qui stiamo facendo. La Femme di Sodium. Che ci dà anche. Il Lithium. Quindi l'unica cosa che mi manca. Oltre ad aspettare il Nether Sky Steel. È la Singularity di Arch. Che posso fare. Oh sì. Eccola qua. Arch Singularity. E sì. Possiamo autocraftare il Solar Ray. Creative. Ci migrerò un po'. Chissà quanto. Ah qui. Questo sta ancora aspettando. Il Fusion Crafting. Dovrei mettere una torcerina qui. Si era scollegato? Sì. Ok. Forse per quello che ci stava impiegando tanto. Strano. Direi che questo è il momento migliore per fare il setup per il Mythic Processor Wiremill. Che ci può dare una mano a fare i wire. Direi di sì. In teoria li posso far condividere i bordi. Quindi posso mettermi un altro Mythic Processor qui. Costituiamo le cose qui attorno. E rompo il Wiremill. E lo metto qui dietro. Insieme alla interface con i pattern. Che mettiamo qui. E una volta messe le nuove resaip ho dovuto ricodificarle perché i rati sono diversi. Posso riordinarmi il Creative? Sì. Vai. E questi dovrebbero essere più veloci. Giusto? Oh sì. Oh sì sì sì. Incredibilmente più veloci. Ottimo. Nel frattempo ho anche finito di fare i vari Mythic. Posso quindi completare la quest. Esatto. I copywai stanno per finire. Avrei potuto anche moltiplicare di più. Forse sarebbe stato più veloce. Nel caso non credo sia una resaip che faremo spesso. Lo spero. Ok. Ha quasi finito. E ora inizio a fare il resto. Mi sa che sta per finire. Perché si è bloccato? Si è bloccato? Perché? Si sta pensando? Hmm. Se ti annullo. E poi lo riordino. Ok. L'ha finito. Questa volta è stato anche piuttosto veloce. Non so. Perché si fosse impallato. Forse il grafting era troppo grande. Creative. Solar Array. Vediamo quanto mi produce questo bellissimo oggettino. 64000. Perché Sunrise? No. Però sei pieno di energia. Perché ne trasferisci così poca? Ora se non sbaglio. I draconi. Energy Crystal hanno un'impostazione. Per prendere più energia di quello che dovrebbero. Quindi se faccio una cosa di questo tipo. E li collego. Faccio Shift Right Click. E linkati. Mi sembrava che ci fosse un modo per fargli estrarre un per 5. Ma non riesco a farlo. Si può fare Shift Right Click con la mano libera per cambiare la modalità da output a input. E così facendo stiamo guadagnando 64000. Però sembrava di ricordare che si potesse fare anche se non vedo modi. Quindi boh. Questo Creative Solar Panel non è una poverata. Direi che con questa poverata possiamo concludere l'episodio. Quasi quasi non me lo attacco neanche. All'energia me lo metto qui per bellezza. Sì mi sembra che come blocco decorativo sia molto più utile. E ci vediamo al prossimo episodio.